Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo degli ultimi dati arrivati direttamente dall'Inps riguardo le pensioni italiane. Vediamo dunque insieme brevemente i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Pensioni meno di 1000 euro al mese per il 40% degli italiani. Le pensioni sono molto ancorate al mercato del lavoro se la dinamica è scarsa. Ciò si riflette fortemente sul sistema previdenziale. A oggi ricordiamolo il 40% dei pensionati prende meno di 1000 euro al mese. Abbiamo fatto una simulazione prevedendo un salario minimo di 9 euro e in questo caso i trattamenti sono aumentati del 10%. A sottolineare i dati è stato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico che ha illustrato le parti sociali negli scorsi giorni a Palazzo, Way the Kind, il 21esimo rapporto Inps. Voi cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.